C'è Enea Città che vuole parlare, per favore abbiate pietà. Abbiamo una dimostrazione di democrazia che noi anche in città vengono alle nostre assemblee, dicono quello che vogliono dire, speriamo che riesca a convincersi tutti della bontà del calo e così Monti sarà contento. Enea Caroncio, professore. Semplicemente, pur io avendo visto che c'è l'amiante, e non volendo che i miei figli, i miei nipoti e chi verrà dopo abbiano incanto per i prossimi 50 o 100 anni, voglio portare tuttavia la mia testimonianza perché io, nonostante tutte le buone ragioni che voi avete, e nonostante tutte le persone della valle che io stimo siano dalla vostra parte, io sono favorevole al lavoro. E questo lo volevo fare di fronte a tutti. Come mia testimonianza perché per una trentina d'anni o quanto è ho insegnato in questa valle, io voglio bene a questa valle, voglio bene a quelli che sono stati con me, e pensavo, penso che sia necessario dire anche il mio parere, pur sapendo che tutte le cose che voi pensate sono giuste. Grazie, bravo!